Ad oggi sono 12 i primi malati covid pratesi ad aver ricevuto la terapia di anticorpi monoclonali al Santo Stefano, uno dei centri di riferimento per la Toscana. La somministrazione avviene nell'ala nord dell'ospedale che è completamente convertita al covid ed è gestita dagli infettivologi che monitorano l'efficacia della cura per un mese per poi inviare risultato all'AIFA. Nel caso di Prato si tratta della dottoressa Donatella Aquilini, direttrice del reparto di malattie infettive del Santo Stefano, che incontriamo per capire meglio i punti di forza di debolezza di questa cura sperimentale contro il covid. Sono delle proteine che si legano alla proteina spike, a due parti in questo caso, visto che sono una combinazione della proteina spike, che è un po' la chiave che il virus utilizza per entrare all'interno delle nostre cellule e quindi è proprio veramente una barriera. In attesa che il centro specializzato di Siena termini la sperimentazione di un nuovo tipo, ai pazienti vengono somministrate sia fiale singole che cosiddetti cocktail di monoclonali delle aziende Lilli e Roche. I contagiati a cui può essere somministrata questa terapia sono pochi perché i criteri di selezione sono molto rigidi, i sintomi devono essere comparsi da poco, idealmente entro 72 ore, non oltre 10 giorni. Serve questa cura proprio per aiutare, diciamo, una situazione in cui le difese non sono ancora, diciamo così, attive. E poi devono presentare fattori di rischio. I pazienti a rischio sono i pazienti con grave cardiopatia, con diabete mellito scompensato, con situazioni di grave insufficienza respiratoria, pazienti in dialisi, pazienti con immunodeficienza primitiva o secondaria, soggetti obesi.